Come distinguere l'Alto e Basso Medioevo? Il Medioevo è un periodo molto lungo che va dalla caduta dell'impero romano d'occidente alla scoperta dell'America dal 476 d.C. al 1492 che è la data della scoperta dell'America. Gli storici hanno deciso di dividere questo lungo periodo in due periodi diversi. Alto e Basso Medioevo. Qual è l'Alto e il Basso? L'Alto è quello che ha un maggior numero di anni. Dal 476 all'anno 1000 abbiamo più anni che dal 1000 al 1492. Il Basso Medioevo è un periodo più florido rispetto all'Alto Medioevo. Ciao, al prossimo video, vi aspetto!